Paolo Lavanga, sindaco di Anzano di Puglia. Uno sente Anzano di Puglia, si spaventa, non sa nemmeno dove si trova. Invece noi lo ribadiamo ancora una volta, Anzano di Puglia, forse uno dei comuni dei Monti Dauni maggiormente collegati alla rete viaria regionale e provinciale. Come si vive ai margini di una capitanata ampia e complessa? Noi nonostante le difficoltà comuni a tutti gli altri paesi, la mancanza di lavoro, possiamo dire che viviamo bene. Perché, come hai appena detto tu, sostanzialmente diamo subito l'impressione di essere un paese che vive all'interno della capitanata, ma invece ha la possibilità oggettiva di essere molto accessibile e ha la possibilità di collegarsi sia alla Campania che alla regione Puglia. Noi siamo infatti a 8 chilometri dall'uscita autostradale. Devo dire che le nostre arterie, tranne qualche tratto, non riversano in male condizioni. E qui viviamo bene, perché questo è il periodo che forse meglio si apprezza vivere qui a Anzano, perché l'aria che si respira qui credo sia non comune a tutte le altre zone della provincia di Foggia. Un paio di motivi per convincere i visitatori a venire qui ad Anzano. Innanzitutto, di per certo c'è il santuario della Madonna di Anzano, che ogni anno unisce tante comunità il lunedì dopo la Pentecoste. Però abbiamo un bel paesaggio, a breve avremo la possibilità di consegnare al paese un centro policulturale che ci darà la possibilità di parlare di turismo, non solo per il comune di Anzano di Puglia, ma per tutti i Monti Dauni. E poi, come dire, qui la gente è abituata adesso a farsi le lunghe passeggiate, ad apprezzare quella che è la montagna, e per questo noi abbiamo in riservo un progetto che speriamo di realizzare quanto prima. Grazie. Grazie.